Ubriaco alla guida, aveva travolto una 46enne di cavriglia mentre attraversava la strada. Adesso è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Era lo scorso giovedì sera quando l'uomo, un operaio di origini romene, al volante con un tasso alcolemico pari a tre volte il consentito, aveva colpito la donna mentre attraversava la strada al ponte delle Forche dopo essere scesa dall'autobus che la riportava a casa dal lavoro. Ad allertare i militari erano stati alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. La donna investita era apparsa sin da subito in condizioni serie, era stata trasferita in elicottero all'ospedale senese delle Scotte in codice rosso, poi ricoverata in prognosi riservata. L'uomo adesso dovrà rispondere dei reati di guida in stato di ebrezza e lesioni personali stradali gravissime. Il tasso alcolemico riscontrato è risultato infatti pari a circa tre volte il valore consentito. I militari hanno inoltre provveduto al sequestro immediato dell'automobile di cui era la guida l'uomo al momento del violento impatto.